Miei impavidi amici! Insieme possiamo formare una squadra perfetta! Un gruppo che si basa sulla rigida disciplina per estirpare il male alla radice e che a pieno titolo può chiamarsi... Titans! Che bel discorso, Nonna Dollaro! Se non mi sbaglio, il mio avversario ha fermato di non dire mai le bugie! Colpevole di sincerità! Se non erro oggi, non mi hai chiesto! Lo senti anche tu riferito ad un odore pestilenziale? Io me lo ricordo, sì! Sì, ok! Poi ti ho chiesto, signore, immagino che non sia tu il responsabile di quel cattivo odore! Oh, beh, ecco, il fatto è che... Stai divagando? No, no, è solo che... Rispondi alla domanda, presidente Washington! Sì! Sì, è vero! Ho fatto una puzzetta non usata e ho cercato di fare finta di niente! Io ho finito? Sì, è vero! Sì! 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 Grazie a tutti.